Giorni decisivi per conoscere le nuove disposizioni del commissario straordinario contro la PSA, Vincenzo Caputo, nominato a febbraio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per combattere l'epidemia pestesuina africana che, secondo i dati diffusi dall'Istituto Zooprofilattico, ha già colpito quasi 600 cinghiali sparsi in diverse province tra Pemonte e Liguria. Il problema esiste ed è grave, soprattutto per le conseguenze economiche che subirà chi svolge attività all'aria aperta e non solo quindi gli agricoltori, gli allevatori, i cacciatori che vorrebbero tornare ad essere parte attiva nell'abbattimento dei cinghiali, ma le limitazioni potrebbero tornare anche per chi, approfittando della bella stagione, vorrebbe muoversi e svolgere attività sportive e turistiche in libertà all'aperto in quei luoghi che si trovano in zona rossa, tipo i quasi 100 comuni alessandrini, 37 in provincia di Genova, 10 comuni della provincia di Savona e ancora 6 in provincia di Asti e anche i due che si trovano fuori dalla Liguria dal Piemonte, nella confinante Emilia Romagna, cioè a Piacenza. Le pressioni per il commissario Caputo affinché prenda provvedimenti drastici a questo punto arrivano anche dalla vicina Lombardia, ma anche dalla provincia di Cuneo, che teme per i suoi vasti allevamenti suini. Secondo le ultime indiscrizioni già pubblicate, il commissario Caputo non vedrebbe di buon occhio come unica strategia quello del solo posizionamento di reti di contenimento e punterebbe a nuove strategie ed azioni coordinate per arginare l'avanzata del virus. Per l'abbattimento dei cenghiali nella zona effetta ha già lasciato intendere di voler coinvolgere l'esercito e le forze dell'ordine. La Regione Piemonte, secondo quanto ha dichiarato l'assessore all'agricoltura e alla caccia, ha chiesto la possibilità però di effettuare, con tutte le precauzioni di biosicurezza, le attività all'aperto perché l'economia del territorio arriva da tre anni di profonda crisi dovuta al Covid ed è impensabile immaginare la chiusura dell'attività, senza dimenticare poi i cani per cui l'addestramento, l'allenamento e le prove devono essere effettuati in territori idonei.